ciao bimbi guardate che carino lo facciamo in un minuto ci vuole proprio proprio poco allora avete bisogno di un cartoncino su quale disegniamo la chioma di un albero di un rotolo di cartegginica con cui facciamo il tronco possiamo colorarlo e quindi poi attaccarlo al cartoncino poi prendiamo una bottiglia di plastica la tagliamo in questo modo dal collo così e lo inseriamo sull'albero mi raccomando incolliamo anche questo va bene io adesso non non lo posso fare perché ho le mani impegnate però in un minuto si può incollare poi andiamo a raccogliere la frutta eccola qua la frutta e sull'albero potete usare qualsiasi tipo di palline io adesso queste qua e le infiliamo dentro e poi possiamo anche divertirci quando è pieno a farle a raccoglierle quindi a farle scivolare dall'albero vedete così vedete mescono dall'albero arrivederci ciao ciao buon divertimento